Siamo con Marco Radaeli, campione della BMX, sei l'unico italiano ad aver vinto il mondiale, che onore è per te? Sì esatto, l'ho vinto l'anno scorso, è stato un onore veramente grandissimo, soprattutto per chi mi sta dietro, chi mi aiuta come mio padre, come famiglia, anche i miei sponsor, quindi un grazie a loro, è comunque una grande soddisfazione da portarsi a casa. Un bilancio della stagione di quest'anno? Allora, il bilancio è stato più o meno altalenante, poiché ho fatto dei buoni risultati, anche a livello europeo, ho fatto un po' di europeo, ho fatto anche gare di Coppa del Mondo, però purtroppo alcune gare sono andate male, ho fatto alcune cadute che non mi hanno permesso di entrare nelle finalissime, però tutto sommato è andata bene. Fine stagione sei andato in vacanza? Sì, sono andato in vacanza, in realtà è metà stagione per noi, perché ad agosto c'è una pausa di un mese, e poi successivamente si riprende con la stagione, quindi io in realtà sto ancora finendo la stagione. Quindi stasera non potrei divertirti come magari gli altri? Sì, infatti, facciamo che stasera e domani mattina ho l'aereo, è un po' particolare, però comunque sono riuscito a venire qua. Vai direttamente all'aeroporto? Esatto. Se ti devo chiedere di scegliere un argomento tra viaggi e cibo, cosa scegli? Cibo veramente lo sceglierei a priori. Piatto preferito? Allora, ce ne sono tanti, però le lasagne della nonna direi che van benissimo. E tu in cucina come te la cavi? Guarda, bene, perché la colazione la faccio sempre io e magari anche cambio, faccio una frittata o preparo anche pancake, robe varie, mi diletto abbastanza bene. Quindi sei più dolce o salato, entrambi, alterni? Sì, entrambi, perché io sono amante di tutto il cibo, quindi faccio tutto. Adesso però devi stare ancora un pochino in linea. Eh sì, dai, poi ci sono le vacanze di Natale, lì possiamo dare sfogo a tutto quello che possiamo mangiare. Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show.